Come si è trasformata Videocom nel tempo considerati i cambiamenti dovuti alla digitalizzazione del settore delle costruzioni? La nostra azienda opera in questo settore da più di 20 anni, seguiamo il mercato dell'architettura da vicino con questo prodotto che è americano e di cui noi trattiamo la commercializzazione in Italia. Per Vectorwork la digitalizzazione è naturale nel senso che abbiamo da sempre seguito questo mercato e l'evoluzione per noi è costante. Ogni anno abbiamo una nuova versione con nuove tecnologie, in questo momento ovviamente stiamo focalizzati sul formato di interscambio FSI ma anche su quello che è la realtà virtuale per cui abbiamo nuove funzioni per la gestione della vista VR e l'ambientazione del modello all'interno dello spazio. L'appuntamento qui a Bologna è stata un'occasione per riflettere, incontrarsi, confrontarsi su questo tema? Certamente, anche perché tantissimi clienti, tantissime persone, tantissimi progettisti stanno cercando di capire qual è la direzione in cui le software house vanno nel futuro e come possano aiutarli nella loro processione. Per cui certamente è un momento di riflessione per confrontarsi, imparare e seguire nuove vie. Grazie. 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 Grazie.